Quando si narrano leggende sui pirati, di quanto siano spietati e malvagi, c'è un pirata che è più temuto di tutti gli altri. Tremate! Sono il capitano dei pirati! E sono qui per il vostro oro! Temo che non abbiamo oro, vecchio mio! È la nave dei Levrosi! Visto? Dietro ogni capitano c'è una ciurba! Terror! Scusi, alcuni di voi sono più brutti dei cetrioli di mare, altri sono più simili a uno sgabello o a un attaccapalli! E alcuni sono pesci con un cappello! Pissa la bandiera! Quella classica, signore! O quella macabra? Super macabra! Facciamogli tremare l'interiora! Abbiamo delle noie coi pirati, vostra maestà! Io odio i pirati! Noi ridiamo del pericolo! Io no! A me non piace il pericolo! Un vero pirata! È ovvio! No! Possiamo arrivarci? Sì, ma purtroppo c'è un mostro di mare di mezzo! Penso che li aggiungano sulle mappe per decorazione! Ne è sicuro! Visto! Gliel'avevo detto! Pirati Briganti da Strapazzo Sono il capitano dei pirati e sono qui! Nave fantasma! Uuuuuh! Uhhh! Ehm! Mh!